Siracusis Anicula, deos quotidiob secrabat, ut Dionisius, crudelissimus civitatis tirannus, in colums semper esset, diuque viveret. Dionisius, re nova cognita, mulirem in resum aduci iussit, precumque causam quesivit. A Nicula, Nebelius, respondit, olim Siracusis inicus tirannus imperium tenebat, cum evita exercisset, ferocior tirannus urbis arcem occupavit. Ide oque vehementer cupiebam ut eius dominatus, quam brevissimus esset. Sed poste abuimus te, omnium tirannorum sevissimum et violentissimum. Ita, deos, pro tua salute ob secro, et postmortem tuam tirannus ethum peior civitati contigat. Tam liberum ac facetum responsum Dionisius punire noluit, et Aniculam dimisit in columen. Una vecchietta di Siracusa invocava ogni giorno gli dèi affinché Dionigi, crudelissimo tiranno della città, fosse sempre sano e vivesse a lungo. Dionigi, venuto a sapere la cosa nuova, ordinò di portare alla villa la donna e chiese l'origine delle sue preghiere. La vecchietta alquanto veloce rispose, un tempo il dittatore di Siracusa teneva regno in modo diverso. Quando morì, un più crudele dittatore usurpò la cittadella della città. Per questo pregavo con forza che il suo regno fosse il più corto possibile. Ma dopo avemmo te, tra tutti i dittatori il più malvagio e brutale. Così invoco gli dèi per la tua salute, affinché dopo la tua morte non capiti alla città anche un dittatore peggiore. Così Dionigi, il risponso semplice e scherzoso, non volle castigare e lasciò la vecchietta sana.